La parola che Papa Francesco ha ripetuto con decisione è stata gioia. Una vocazione iscritta nel DNA del cristiano, anche nelle condizioni apparentemente più avverse. Ed è proprio dai margini, dai confini dell'abbandono, che il pontefice ha deciso di entrare nel capoluogo Lombardo. Nel quartiere periferico Forlanini, alle cosiddette case bianche, Papa Bergoglio è stato accolto da tre famiglie nei rispettivi appartamenti, prima di incontrare i residenti e i rappresentanti di Rom, islamici e immigrati nel piazzale. In un clima di commozione e riconoscenza ringraziato per i doni ricevuti, una stola interamente realizzata a mano, simbolo che il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo, è un'immagine della Madonnina di San Galdino prima e dopo il restauro. Proprio l'esempio di Maria, che sempre ci viene incontro, non per fare proseliti, ma per accompagnarci nella vita, deve spingere oggi la Chiesa a essere in uscita. E' anche significativo il fatto del restauro. Questa vostra Madonnina è stata restaurata, come la Chiesa ha sempre bisogno di essere restaurata, perché è fatta da noi che siamo peccatori, tutti eh, siamo peccatori. Lasciamoci restaurare da Dio, dalla sua misericordia. Nel quartiere visitato dal Papa, ad esempio, la presenza delle piccole sorelle ha fatto sì che utilizzando come legame sociale il cibo partisse una cucina comune e da quella cucina comune in cui si cucinavano cibi lombardi e cibi medio orientali, cibi asiatici e anche cibi nord africani, da quella cucina comune è partita una capacità di creare osmosi e legami che ha fatto sì che nascesse anche una scuola di arabo gestita in parrocchia, frequentata per la maggior parte da ragazzini di fede islamica, arabi, che in questo modo conoscono chi siamo e lavorano con noi, giocano con noi e crescono con noi. Davvero potremmo dire che la città di Milano presenta forme di meticciato, ovvero di mescolamento, che a partire dalla risposta ai bisogni concreti, man mano si va fino al bisogno religioso e lì ci si scopre davvero molto simili, capaci di condividere anche la fede e capaci anche di annunciare in modo nuovo. Il secondo appuntamento del successore di Pietro nelle oltre 11 ore a Milano è stato con i sacerdoti e consacrati nel Duomo. Dopo Martino V nel 1418, Giovanni Paolo II nel 1983 e 1984 e Benedetto XVI nel 2012, Papa Francesco si è raccolto in adorazione del Santissimo Sacramento e venerazione delle reliquie di San Carlo prima di condividere alcune considerazioni con i circa 4.000 convenuti sollecitato da tre domande. Senza avere paura delle sfide che sono il segno di una fede viva e non ideologica, i discepoli di Cristo sono chiamati oggi a essere lievito e sale, ad accendere la speranza spenta e fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolore degli altri. Anche dinanzi alle vocazioni poco numerose, ha rimarcato il pontefice, non bisogna cedere il passo alla rassegnazione anticamera dell'accidia, coltivando invece il discernimento e insegnandolo soprattutto ai giovani, oggi spusti a uno zappe in continuo e in una cultura confusa dell'abbondanza. E non dimentichiamo che quando si mette Gesù in mezzo al suo popolo, il popolo trova gioia. Sì, solo questo potrà restituirci la gioia e la speranza. solo questo ci salverà dal vivere in un atteggiamento di sopravvivenza. Per favore no, questo è rassegnazione. Non sopravvivere, vivere. Le sfide per la Chiesa di Milano sono le sfide di tutte le Chiese. In modo particolare la sfida più grande è mostrare la gioia del Vangelo. Milano è una terra che è stata davvero vivificata dalla vita di tanti santi pastori e di tanti santi fedeli. Dobbiamo semplicemente guardare a loro, guardare a coloro che prima ci hanno preceduto e ci segnano la via per essere testimoni credibili dell'amore del Signore. Il fatto che ci sia Papa Francesco è proprio il segno dell'unità. L'unità in una Chiesa che si differenzia in tante forme, però è l'unico corpo e questo credo che sia davvero molto importante per noi. E qua avere tra noi Papa Francesco è confessare insieme a lui la nostra volontà di riprendere il Vangelo come cartamagna del nostro essere Chiesa. E dobbiamo davvero essere questo quinto Evangelio, ma non per vantarci di essere qualche cosa, bensì per non tradire il nostro essere di Cristo. Dopo aver guidato la recita dell'Angelus sul Sagrato del Duomo, Papa Bergoglio si è recato in visita al carcere di San Vittore dove ha trascorso due ore portando una carezza gentile tra tante situazioni di sofferenza, conforto per le ferite dei detenuti con i quali ha pranzato nel terzo raggio. Se quei mondi noi li lasciamo abbandonati a se stessi, separati, ci perdiamo tutti. Ci perdono loro perché rimane una povertà senza speranza, ci perdiamo noi perché perdiamo incapacità di incarnazione. Il viaggio del Papa è bello perché cuce insieme diversi luoghi, appunto la periferia, poi l'incontro con i preti, poi il carcere, poi l'incontro col popolo, poi l'incontro con i giovani. Il messaggio è quello che dobbiamo tornare a cucire, dobbiamo continuare a cucire e quello che effettivamente in questi anni stiamo facendo nelle carcere, questa operazione di cucitura, utilizzare attraverso la presenza dei cappellani la possibilità di portare la gente che vive la vita quotidiana a incontrare quel mondo, ad ascoltare come in quel mondo, proprio perché è un mondo in emergenza, è un mondo dove la gente rilegge la propria vita, ci sono cammini di conversione e spinte, capacità di rilancio e di rinascita che fuori è molto più difficile vivere, per cui l'incontro effettivamente col mondo delle carceri diventa significativo per questa capacità di contagio che non dobbiamo perdere. Migliaia di persone hanno partecipato alla messa nel Parco di Monza, celebrata nel pomeriggio secondo il rito ambrosiano, in un mondo dove tutto sembra ridursi a cifre, mentre la vita di tanti si tinge di precarietà e insicurezza, ha detto il Pontefice, non possiamo rimanere meri spettatori nella speranza che smetta di piovere. Il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti non può infatti renderci insensibili dinanzi a chi specula sulla vita, sul lavoro, sulla famiglia, a chi specula sui poveri e sui migranti, sui giovani e sul loro futuro. Dio continua a cercare cuori come quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto straordinarie. Le sfide più grandi in una società come quella milanese credo che possano essere queste. Innanzitutto vedo la grande sfida di un cammino di fede, di portare la fede in tutte le dimensioni della nostra vita. L'altra grande sfida la vedo nella capacità di essere accoglienti di tutti i fratelli, e di tutte le sorelle che vengono nella nostra terra in cerca di lavoro, in cerca di una casa, in cerca di accoglienza. Mi riferisco anche ai tanti migranti che vengono in questo nostro contesto. Una coinvolgente esplosione di entusiasmo e vitalità contraddistinto nello stadio Meazza a San Siro, l'incontro con i Cresimandi e i Cresimati, circondato da sorrisi allegri e spontanei, in un dialogo cuore a cuore, Papa Francesco ha insistito sulla dimensione del tempo da trascorrere insieme, soprattutto in famiglia, giocando. Sull'educazione, che dovrebbe essere multiforme, basata sul pensare, fare e sentire, e sul senso dello stupore, che oggi rischia di essere scheggiato dall'uso costante della tecnologia. In un racconto reso più intenso da ricordi personali, il Pontefice ha indicato tre strade per far crescere l'amicizia con Gesù, i nonni, che hanno la saggezza della vita, giocare con gli amici per capire il rispetto e la bellezza di fare squadra, e la parrocchia. Infine una richiesta, promettere di non fare mai bulli con qualcuno, di non perseguitare le persone, soprattutto quelle più fragili, una piaga che si sta diffondendo, ha riconosciuto, in maniera preoccupante. Per favore, per il sacramento della Santa Crescima, fate la promessa al Signore di mai fare questo, e mai permettere che si faccia nel vostro collegio, nella vostra scuola, nel vostro quartiere. L'incontro con i Cresimandi nello stadio di San Siro è un appuntamento significativo per la Diocesi di Milano, lo si celebra da decenni, è il momento in cui dei ragazzi, che non riescono a vedere il ministro ordinario della Cresima, che è il loro vescovo, lo incontrano, e quell'incontro ha il valore di far vedere che, allo stesso tempo, è una chiesa che li accoglie e li invia. Diventa significativo questo incontro, alla presenza del Papa, lo è stato, ad esempio, molto anche con la presenza di Papa Benedetto XVI, perché questi giovani vedono il successore di Pietro e in lui trovano la conferma di quel coraggio a cui tutta la Diocesi li invita, un coraggio che in questo momento è ancora più forte perché vivere la fede a quell'età, in quel contesto di cambiamento antropologico legato a tutto il mondo del digitale, al mondo della ricerca scientifica, che loro sentono molto, diventa una sfida importante.